Ed eccolo Palazzo Poli, il palazzo dove dal 1732 è appoggiata Fontana di Trevi, una delle fontane più famose al mondo e sicuramente la fontana iconica di Roma. Il palazzo Poli, abitato da inquilini illustri, è oggi la sede dell'istituto centrale per la grafica. La sala più importante è la sala Dante, davvero immensa, talmente grande che questa sala prende addirittura due piani dello storico palazzo. Perché è importante Palazzo Poli? Innanzitutto perché c'è l'appoggio della Fontana di Trevi, ma anche perché è un attrattore culturale, si allestiscono mostre. Dal 1978 è stato acquisito dallo Stato italiano, quindi Palazzo Poli è oggi un palazzo nella proprietà dello Stato italiano e un luogo di cultura tra i più importanti a Roma.